Coppa Italia, esordine Parma, Salerno in Tana Parma Nooo dobbiamo passare il turno, dobbiamo sempre cagare Coppa Italia negli ultimi anni via, partiamo vai hai dovuto aspettare sempre tre ore che carichi ma ti ha sentito questo? eh sì, hai sentito? sentite sì dopo un... dopo ci beviamo un drinchino a favore della mia vittoria a Salerno, con l'ho partita qua, l'attesa ah sì? tutta l'estate, guarda la gente guarda la gente sui spazi, molti sono... vabbè, perché molti c'è il mare lì, ecco ho fatto partita eh eh, bene è buffo aveva un grande età di 82 anni, ecco dai Parma su, passiamo il turno, eh fucker rocker che lavoro eh si vede che ci siamo in casa ci abbiamo... ci abbiamo... ci abbiamo... ci abbiamo... ci abbiamo... ci siamo tutta Parma senti, c'è una questione, senti ti fanno parlo, ahahahah buonissimo buonissimo Simon Sam a Coulibaly no, caccata di Coulibaly, no, Gran Riby di Coulibaly sì, però sfiga anche però a Coulibaly un treno benediccia cerca lo scambio e non lo trova mette in difficoltà gli avversari bellissimo e la ruba benediccia mette in mezzo no 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 benediccia ma questo qua è Bernabè cos'hai fatto Bernabè? mi hai detto Bernabè quello è Bernabè 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 eh sì sì, certo figo con il look nuovo sì sì no dai non puoi belis figo, ma tiro cosa c'è a zero? non si può, vero, tiro a zero da lì è gol guardate di belis eh negoloce ti arriva metti in area di rigore dai proteggila cosa c'è? cioè io ho fatto fallo a lui proteggendo il pallone fate schifo, fate schifo per a me poi è a Ribery vabbè l'ho tutelato no veramente esatto ha scattato cioè mi ha dato uno schiaffo sulla schiena a Frank no è un schiaffo sulla schiena a casa mia un fotografo a Franky no no basta Frankystein a Ribery è tradibile Frankystein stop tranquilli lob bellissimo per Bernabè bravo Bernabè bell'astist noi dobbiamo migliorare i valori eh bocca pietarella la cazza del pallone cos'è sta roba bravissimo però Bernabè la ruba benedizia bravo annulla bravissimo annulla appena in tempo si gira su se stesso Dennis Mann punta l'avversario se ne va Dennis si entra in aria forse niente un corso orrendo più subito ma vai in cielo spazzalo mi rocca spazzoletti terribile mi rocca che rocca la tocca ma che schifo la tocca benissimo passala fuori gioco no bene non puoi dire quella roba qua non sappiamo neanche le regole pensiamo forse non esiste però gioco sul pallone ah eh vabbè non ne so scusa non so niente non si può confondermi senza cercare di fare gol e ora chiude Kobo il nuovo Turan sto scherzando buono Turan non so niente non so niente ma ti erano scherzi l'ho processato subito Vakere poi bravissimo però ma bravissimo è nostro eh oh Dennis Mann grande tecnica Dennis Mann alleluia 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 questo è fallo su che boh dai l'ho in mezzo lì di schiattarella sombrero questo guardas ottimo scambio del parma guardateli se la scambiano se la giocano tutti prima e facca che roba è fallo su benedicci che ti benedicci una bella punizione ma che schifo e chi me la tira adesso questa punizione me lo scaccia me lo scaccia che roba che roba che roba che ne apparello le mani chi ha la schiattarella no ma ascolta ma non c'ho qualcuno meglio ma che io me lo di schiattarella ma va a cagare me lo di schiattarella ma chi c'ho oh ma chi c'ha un po' di tiro ragazzi ma si può sapere chi tira come? come? d'anismen ma no non c'ha tira ma no come? chi lo fa schiaa? valenti lautaro ma come si fa? allora va bene va a fare il culo che cazzo se ne vuoi tira schiattarella dopo cercherò di capire come si fa schiattarella schiattarella schiattamerdo è fuori di pochissimo, può tirarla anche la schiattarella non so niente replay non so perchè si ma solo sulle punizioni comunque vabbè un parlo frenetico per recuperare il pallone cos'è questa sfiga qua parlo? niente attimo, buon farlo e fallo è uno schifo l'abito fai però vabbè come cos'è? precisissimo quel filtro lì veramente, veramente preciso vabbè cosa fai? rischi di più la prossima volta magari vabbè che rischi vabbè bella questa mi piace arriva qualcuno no eh errore? ci sta? ci sta che c**o però che c**o però che c**o Frank voilà Frank stiamo calmi oh ragazzi è il ventitresimo capisco che c'è del Parma che sia duro e come sempre di Coppa Italia è un giocatore subito nel caso eh si però munisci che lui l'ora di adesso però fighe che due balle ma munisci ma che schifo si vabbè ma è stato uno sgambetto eh vabbè intanto se perdevo il pallone becchavo anche gol magari in mezzo a due bravissimo bravo eh fallo eh si raffallo nel momento in cui mi libero del pallone figa terribile lo affronta bravissimo lo sradica via cosa c'è? ah mi è posato eh raga certo mi lascia andare prima ma va ma se lo merita vedi che cammina con lo sguardo in basso eh non è eh oeeee ma fai cuore buonazzoli ma porca puttana e buonazza e buonazza c'è? mica che roba che roba oh uno spiraglio ah un spiraglio li ho fatto fare tutti saranno impazzita uno spiraglio che panno gol che ci arriva neanche se avesse avuto 18 anni che roba fallo e che lavoro si ragazzi siamo sotto il tuo Palma che lo convince no va bene lo convince è figo peccato un gol, una distrazione e ora ci sta e l'angolo per il Palma che prova a reagire provate tutto eh si finalmente è arrivata una pallinare dai svetta lì tuo stronzo oh che roba è eh niente non c'è un cos'è 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 veramente che è successo spero che ci fanno a favore mio no cos'è vi ho tirato un pugnetto nello stomaco si è andata bene che roba un nano da di testa non c'è che schifo di passaggio di foto non schifo veramente bello fa va bene Franky me lo fa di Franky ma che stiga c'ho che stiga c'ho avuto lì una palla d'oro era che fa che lavoro niente non si riesce a passare fallo non c'è niente lontano che tocca stavo tirando un micile stavo spaccando la porta di prima e invece non è passata la palla sfiga porca vacca provoca incredibile la presa ma la prendo anch'io forse dai tiralo giù lo prende è un male lo fa che non fa niente buonissimo però col cuore di prima mamma buonissimo mia ila che l'ho fai fatto mamma mia fai chi? no la realtà che fighe non c'abbiamo di te non c'abbiamo di te eh non vale non c'abbiamo di te no la realtà che fighe no la realtà che fighe no la realtà che fighe non c'abbiamo di te tra l'ora tra l'ora tra l'ora magari era il giro del piede eh che schifo non lo so dove era non c'abbiamo di te non c'abbiamo di te se sei santa sei da che rangolata dai raga dai che arriva a me mani no la realtà che fighe no la realtà che fighe non c'abbiamo di te no la realtà che fighe non c'abbiamo di te niente non c'abbiamo di te povero Paolo povero Paolo figa non c'abbiamo di te mamma mia sembra il Sassuolo Juventus figa mamma mia tutto nostro vediamo stiamo così eh sì certo un goletto forca boia ragazzi stiamo così Paolo che adesso perderà le staffe invece no per adesso no vabbè ma è falla figa porca puttana mi fischi mezzo a falla mezzo dai ma bu figa ma quello fa sì sì nei tuoi sogni però e questo cos'è figa schifezza di arbitro dai schiatta provviso schiatta che lavoro è incredibile anche noi però un cuore incredibile qui c'è il cuore con il cuore ottimo è buona è buona abbiamo una bestia di serice bravissima no è fallo mi fai per la punizione ma che schi schiatta 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 questa è reite hai detto ta merda fuori aria eh sì io la palla lontana mi tocco il piedino che schiatta è una tua punizione da qui ci provo sì sì da qui ci provo ancora schiatta schiatta rete ancora basta è incredibile non mi è incredibile perché ti parla ancora ma è una figa incredibile allora no ma figa no ma non si può 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 aaaaaaah cos'è la festa del pados no cos'è che lo schifo qua 10 no figa tu ne ma che le hai fatto schia tutta la carne dai da dove andare del formaggio Figa che l'ho fatto uscire, no, l'ho fatto uscire, non dovevo, ma fighe mi hai montinato il palo, che era Orazio, basta applaudirlo, fighe che era Orazio che ha fatto uscire, non serveva niente Gigi uscire, sono queste gatte, allora facciamo giocare a Chichizzola, come cazzo si chiama, titolare lui, basta fighe, ma come si fa a fare una roba del genere, non dovevi uscire, dai fighe ma svegliati, mamma vicino l'eliminazione, eh sì purtroppo sì. D'altronde se te volete siete di Serie A, cos'è questa roba, fuori gioco spero, sì che roba, cos'è fallo, fallo solo, ma che credibile, cioè già stiamo perdendo 2-0, poi dopo fighe non c'abbiamo già più, il morale è sotto per terra, dai ci credo ancora, eh, ci devo credere o no? Niente, non ci devo credere più, eh, più corto no, è più lungo lo vedo. Mio, fighe che... Fodono come delle bestie ragazzi, adesso portò per 2-0, eh niente, non vanno un cazzo, non vanno niente! Ma poco, anche roba è. L'ha capinta, l'ha capinta, non è un deficiente questo qua! E' bello il tiro, complimenti Bernabè, quello che fa due punizioni consecutive all'incrocio dei palli di qua di là, si ma che diventa Bernabè diventa, eh Gigi, che ingiustizia, che tiro che ha fatto, che roba, vai via, grande, mi fa come fallo, tutelami, mi tutelano, ma non ci arriva nessuno, cos'è? E' angolo, eh? Non è angolo, purtroppo no, è incredibile, neanche una gioia di un gol magari, almeno quello, niente, cos'è? Guarda che roba fa, riparte il farm, contro a piede, contro a piede, mi smena entra in area di regolare, non è che schifo di cosa hai fatto, brutto stupido, eh sì, alleluia, è sbretto anche quello, porca vacca, dai, corri, scomitalo via, incredibile, è sbretto anche quello, anche quello è sbagliato, almeno questo lo puoi, quello là che è benestato, anche via via, bella, ma fa che non ne passa uno, oh, non uno si riesce a farne, bella, mi piace, fortuna, oh, mambo, niente, non si riesce a tirare, oh, non va che roba, ne parla tutte quelle robe lì, che miaia, poverino, mamma mia, non ne va bene una ragazzi, non ne va bene una, niente, anche quella è venuta, resta anche il campo, bocca dove va, bocca, viva il parroco, che roba, che roba, che roba, che roba schifosa, veramente, vai via, vieni qua, no, su, prendi la palla, ma dove vai, andava via, andava, niente, anche quella non è riuscita, credibile, ne fa che chiudi, ce la fai, come di domani, vai, ah, non c'è nessuno, bene, ottimo, però, devo dire, non c'è male, si che lavoro, ti vai, ma ci vai, niente, potano come degli animali, niente, brutto, brutto palma, ragazzi, brutto palma, e boh, no, 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 finca lo so, geniali, 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 se mi va quasi palla, pensa un po' te, c'è un geniali, chiusura al limite, eh, che schifo, che roba, colpito è sbagliato, Bufano, prova a fare la parata Bufano, ti sei chieduto per terra, Bufano Che parata è, oh Dica che fai schifo Ho già capito che della Coppa Italia possiamo salutarla Perché è uno schifo del genere Rotondo, rotondo, boh Mamma mia, che tristezza Mamma mia, spero che non rispecchi la realtà Vabbè, niente, il morale è per terra ragazzi, l'ottantesimo Buf Ehi, dai Inguardabili Inguardabili veramente Ah, cioè tu arrivi lì, ma si è un 3-0 e sbagli anche questo E ti capi benediciat Eh, ma non potrà essere sempre così Eh, no Eh, no No, non puoi sbagliare quella roba qua Incredibile Incredibile Anche questo ho visto sbagliare 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 Oh, fuck, è un po' che schifo E un po' che schifo Mamma mia No Eh, meno che l'hai messa dentro Ce l'hai cavata Figa Già dovevi far gol di prima Perché non si può Guarda che assist Non lo so io Come fai a sbagliare quel gol qua Di prima Se lì dentro là Dalla rigorina Boh Al centro della porta Dalla tirata Non mancherà il volo Un meno Un gol del morale E basta Partita finita Un po' di morale Un po' di pietà Per i poveri tifosi Dunque assistono Scempie del genere Che bella palla Però schiatta Che un bel numero Dennis Mann Ma la cazzo Che è bellissimo Fai con 3 a 2 Sì, è, 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 è Vabbè, ho capito Però Il numero Del Dennis Mann Non vale la partita Un po' di una partita No, ma In una partita no Però un bel numero Se ne vedo la porta Oh, che coda Una roba Carina Dai, sali Ce la facciamo Come di domani La mia Si è alleviata Ma che niente Non gli hanno neanche Dato giusta Era bellissimo Riusciva a fare il 3 a 2 La felicità Manda a casa il Parma Eh sì Purtroppo sì E andiamo al prossimo torno Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.